Un Campli tutto cuore batte dopo un supplementare 81 a 77 Barcellona Pozzo di Gotto e si porta ad una sola partita per strappare il pass per la finale. In un palaborgognoni stracolmo di tifosi come mai in questa stagione, il quintetto di Piero Millina soffre ma va oltre le avversità, tra le quali l'infortunio occorso a Simone Gatti, la cui stagione, peraltro sontuosa, è praticamente finita. I Farnesi, capaci in gara 2 in Sicilia di portare la serie in parità, partono male e il quintetto del coach serbo Milan Nisic domina sotto ed è preciso da fuori. Al sesto è vantaggio sul 5 a 20 Barcellona con il massimo di stacco che arriva a metà della seconda frazione, meno 16, con la globo doppiata sul 16 a 32. Millina scuote i suoi che stringono le viti in difesa e fanno leva sui canestri di Gatti e Bottioni. Negli ultimi minuti di secondo quarto il parziale Farnesi è di 25 a 5 all'intervallo risultato ribaltato, 41 a 37. Dopo il break e contro break della prima parte di gara la partita si trascina da questo momento nel più totale equilibrio. A due minuti dalla fine il tendere d'Achile di Gatti fa crack ma Campli non molla. Punto a punto fino all'ultimo minuto quando Paunovic sigla il 69 a 71, Petrucci in entrata ritrova l'immediata parità. Sempre Paunovic sbaglia da sotto il tiro della vittoria. Il palaborgognoni è una bolgia anche in overtime ed esplode sul siluro di Petrazzuoli a un minuto dalla fine per l'80-75. Barcellona non crolla ed anzi con Rodriguez ha il tiro dell'80 pari che è corto. Rimbalzo di Petrucci che brinda la vittoria dalla lunetta. Quattro uomini in doppia cifra per Campli, 44 minuti in campo per Bottioni, per lui 19 punti come per Gatti, 11 di Petrucci e 10 di Ponziani. Per Barcellona 16 di Grilli e Brunetti, 15 di Paunovic e 10 di Rodriguez. Una serie equilibrata con due gare su tre chiuse ai supplementari. Ma domani alle 18 al palaborgognoni c'è il match ball per chiudere la serie. Senza Simone Gatti sì, ma con un pubblico ritrovato e pronto a spingere i ragazzi di Millina verso l'impresa.